ciao ragazzi sto registrando questo video maggio 2021 purtroppo a distanza di più di un anno si continua a parlare dell'epidemia covid tante cose brutte si sono sentite in questo periodo e purtroppo non è una bellissima atmosfera c'è da dire però che se vogliamo si trova un aspetto positivo in tutta questa vicenda le persone stanno cominciando a fare una cosa fondamentale prevenire la prevenzione in questo caso è fondamentale soprattutto quando non si trova una soluzione realistica a questo problema così grande e a proposito di prevenzione quindi tutto quello che si può fare nel campo dell'igienizzazione negli scorsi mesi abbiamo sentito di tutto ne abbiamo veramente sentito di tutti i colori e sicuramente abbiamo sentito elencare determinate caratteristiche determinati modi per poter igienizzare chiaramente nel nostro campo l'auto ma il concetto si può applicare alla casa ai luoghi di lavoro e quant'altro abbiamo anche capito ormai abbiamo metabolizzato una verità fondamentale non esiste un modo perfetto per igienizzare perché tutti i sistemi hanno dei pro e dei contro vogliamo fare qualche esempio stupido il vapore viene tanto decantato ma poi abbiamo capito che il vapore da solo non serve a niente se non accostato a degli antibiotici a degli antivirali l'ozono potrebbe essere una buona soluzione ma laddove è erogato in quantità esagerate e si fa fatica a capire qual è il modo corretto potrebbero nascere dei problemi per i circuiti elettrici anche delle determinate plastiche si macchiano fumigazione di presidio medico chirurgico si può essere interessante non ha sostanziali rischi ma unge le superfici imbratta i filtri dell'abitacolo e il proprietario poi dell'auto rischia di respirarsi qualcosa che tanto bene non fa i metodi che vengono elencati dall'istituto superiore della sanità come ad esempio alcol, acosigenata, candeggina quant'altro anche questi metodi potrebbero avere degli effetti indesiderati nei confronti dei tessuti e superfici dell'auto o della casa in tutto questo marasma, in tutta questa confusione, piano piano, zitta zitta, idrobase è venuta fuori con una soluzione molto interessante ho qui tra le mani due sistemi, due dei tre sistemi perché ce n'è uno ancora più grande per gli ambienti più grandi lo troverete nel sito, chiamati KBKM, banana, koala, mandorla se vogliamo fare uno spelling un pochino differente dal solito, sono i sistemi dell'idrobase per fare igienizzazione cosa hanno di particolare? hanno preso dei sistemi con soluzioni interessanti e li hanno bilanciati tra di loro quali sono questi sistemi? ozono, abbiamo visto che l'ozono funziona assolutamente su virus e batteri, muff e quant'altro ma è erogato in piccola quantità rispetto a macchine che si occupano solo di questo ma l'ozono viene accostato anche a lampade UV che creano dei radicali liberi che ossidano in maniera prepotente gli inquinanti e molecole come virus e batteri inoltre contiene un sistema per effettuare una ionizzazione quindi si liberano nell'aria degli anioni, quindi sono degli ioni caricati negativamente che si attaccano alle particelle di tutto, prevalentemente della polvere prendono la polvere e la fanno in un certo senso far diventare più pesante e la polvere si attacca, la polvere che a sua volta aggrappa, avvolge delle sostanze che fanno male quindi abbiamo tre sistemi che lavorano tra loro e che riescono ad essere estremamente efficaci riducendo praticamente a zero, a nulla, gli effetti indesiderati di alcuni dei sistemi che abbiamo elencato prima la prima cosa che vorrei fare con voi, oltre a dirvi che questa è la versione semplificata contiene solo due delle tecnologie, quindi la tecnologia ionizzante e la tecnologia ad ozono mentre qui abbiamo anche la lampada UV questa è quella che viene considerata portatile, infatti ha fondamentalmente l'attacco dell'accendisigari dell'auto lo mettiamo in auto e ci possiamo tranquillamente viaggiare questa è una soluzione un pochino più professionale anche questa può andare in auto con l'adattatore per l'accendisigari ma è dotata anche di alimentatore 220V per poterlo utilizzare in casa e riesce tranquillamente a trattare stanze da 25 metri quadri detto questo procediamo all'unboxing e vediamo come sono fatti ok ragazzi, come vi dicevo mi piacerebbe iniziare da questo che è sicuramente il più semplice per la versione portatile che viene chiamata plug-in abbiamo una confezione iPhone style, io la chiamo quindi abbiamo queste due parti di scatola, una dentro l'altra la solleviamo, speriamo di non far danni ecco il purificatore d'aria se così vogliamo chiamarlo abbiamo le istruzioni, sono purtroppo in inglese questa è una cosa che vi devo dire non ho apprezzato tantissimo evidentemente idrobase ha comunque un target di clientela molto molto ampio e questo è il dispositivo, non c'è altro lo inseriamo nella presa accendisigari ci accorgiamo del funzionamento attraverso l'illuminazione interna e possiamo, grazie al fatto che la produzione di ozono è veramente molto bassa possiamo tranquillamente viaggiare con questo acceso senza nessun rischio per la nostra salute mettiamo da parte il plug-in e cominciamo ad avere a che fare con il mobile 2.0 che chiaramente è uno strumento che riesce ad essere decisamente più efficiente, decisamente più prestazionale per gli ambienti grandi apriamo questa scatola, anche questa è fatta molto bene ben imballata istruzioni, anche in questo caso in inglese abbiamo il dispositivo che è questo dopo lo guardiamo con attenzione e una serie di soluzioni per poterlo fissare questa è la sua basetta che può essere fissata attraverso queste tre ventosine le vedete? quindi una superficie liscia addirittura c'è chi lo tiene in verticale attaccato a una parete o qualcosa di liscio in modo che le ventose possano fare il loro lavoro abbiamo un tappetino antiscivolo questo è ottimo da tenere sul cruscotto dell'auto quindi attacchiamo questo e essendo di silicone non si muove più ci appoggiamo la base sopra e abbiamo una struttura abbastanza solida per tenere questo anche in macchina come vi dicevo abbiamo la possibilità di alimentare questo dispositivo questo igienizzatore con l'A220 alimentatore classico con cavo e alimentatore 12 volts tramite presa accendisigari qui adesso ve lo apro ve lo voglio far vedere meglio questo lo mettiamo qui apriamo la confezione in plastica vi faccio anche vedere come si monta questa è la sua base è una sorta di baionetta ora sulla parte superiore abbiamo due tasti il tasto denominato O3 boost è quello che dà il via alla produzione di ozono da una prima pressione praticamente ogni pressione che facciamo andiamo a cambiare l'impostazione e andiamo a accendere e spegnere la macchina sono due sistemi che possono lavorare in maniera separata quindi questa è la parte dell'ozono questa è la parte ionizzatore lampada UV da qui accendiamo e spegniamo la parte relativa alla lampada UV e ionizzatore di qua invece accendiamo e spegniamo la funzione dell'ozono che ha due modalità ha una modalità intermittente se ricordo bene abbiamo due minuti di produzione di ozono otto minuti in cui la macchina si ferma poi se vogliamo vi metterò nei dati precisi anche questa informazione con una seconda pressione del tasto abbiamo la possibilità di erogare in maniera costante ozono quindi chiaramente con tutti e due i sistemi accesi fissi comunque non è più il caso di rimanere nell'abitacolo o nella stanza perché ricordiamo che l'ozono è tossico per tutti gli organismi viventi e non è il caso di respirarci questa aria quindi ricapitoliamo se abbiamo la produzione di ozono intermittente siamo ancora in valori accettabili per avere un'aria vivibile nel caso in cui vogliamo fare invece un'igienizzazione più spinta e lo mandiamo al massimo chiaramente dobbiamo uscire lasciare il tempo che decidiamo per il trattamento e poi areggiamo la stanza tiriamo le conclusioni ragazzi è un po' che provo questi strumenti cose che mi sono dimenticato di dirvi durante l'introduzione è interessante il fatto che sulla versione 2.0 mobile abbiamo la possibilità di avere un led il led è acceso verde quando facciamo la ionizzazione e teniamo accesa la lampada UV tra l'altro ci sono due modalità una lenta e una veloce dove si sente la ventola abbastanza forte che spinge aria quando invece accendiamo la lampada per l'ozono questo led da verde quindi semplicemente acceso diventa da prima giallo per la modalità intermittente poi rosso a indicare il fatto che non possiamo stare nella stanza quando utilizziamo a piena potenza la modalità ad ozono che altro aggiungere? si sente nell'aria il contributo che dà questo strumento è chiaro che il nostro naso non è un rilevatore di inquinanti però vi posso dire che anche in modalità solo ionizzante e lampada UV si sente che l'aria è più, non vi dico profumata più pulita quando poi chiaramente utilizzate l'ozono in modalità intermittente sentirete quell'aroma caratteristico dell'ozono che laddove rimane in concentrazioni basse come vi ho spiegato prima non vi dà nessun tipo di problema strumenti secondo me utilissimi personalmente scelgo questo anche a fine di un trattamento nei confronti di un cliente perché mi dà la sicurezza che oltre a una profonda pulizia fatta precedentemente posso aver dato quel contributo in più per uccidere funghi, muffe, batteri, virus e quant'altro e quindi garantire ai miei clienti qualcosa di più professionale chiaramente se avete altre domande relative ai prodotti io come al solito rimango a vostra disposizione qui sotto nel video di youtube metterò un link all'articolo che troverete nel nostro blog con anche il link per acquistarlo grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo video